Furto questa notte in località Santa Cecilia, Deboli, all'interno di un'attività commerciale gestita da cinesi. Intorno alle 4 e un quarto, quattro persone a volto coperto si sono introdotte all'interno dei locali forzando la sala cinesca. Una volta dentro, i malviventi hanno portato via il denaro presente all'interno del registratore di cassa ed alcuni dispositivi elettronici. Il valore dell'area furtiva, stando ai primi rilevi, dovrebbe essere di diverse migliaia di euro. A venire in soccorso degli inquirenti i filmati della videosorveglianza che hanno ripreso i ladri in azione e che potrebbero fornire elementi decisivi per risalire ai responsabili.